Bravo! 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 balance! No! Abbiamo fatto un grande lopinione e con questo dobbiamo ringraziare i candidati con sicurezza delle forze politiche irmanie. Grazie! Sono stati in questi mesi tantissime persone comuni, persone della strada, persone che fino al giorno prima tutti i partiti non sapevano nemmeno cos'era. Da quelle persone lì è partita il risultato di questa campagna escolare. E' partita della nuova stagione che ora tutti e sempre scuso nemmeno quelli che hanno perso devono iniziare con noi a costruire questa campagna. Stasera mi aspetto in piazza alle 9 per la festa di questa vittoria che appartiene al Cavaiore. Tutte le scelte di me! Ma ci vorrei anche il conto da noi! Se hai 10 anni e abbiamo... ...la spiegata! ...non l'era! Ah, anzi! Il campagna di proletà abbiamo ottenuto quello! No! 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 No!